Torna il basket, grande l'attenzione riservata ai più piccoli e poi tanto divertimento. Si rinnova ma sempre con grande rispetto alla tradizione il Palio delle Contrade di Sondrio giunto alla sua 58esima edizione in campo grazie all'impegno degli organizzatori dell'Associazione Amici del Palio di Sondrio in collaborazione con il Comune Capoluogo da venerdì i contradaioli di Ronchi, Milano, Vecchia, Trento, Trieste, Ponchiera, Piastra, San Rocco e Brigata Orobica ognuna con una squadra di 10 ragazzini delle scuole medie in gara per il Palio dei più piccoli. In apertura e chiusura delle partite di volley, calcio, basket, giochi, tra gli eventi clou, la gara dei carretti pazzi lungo le vie di Scarpatetti sabato e la cena in piazza Garibaldi il primo settembre con le premiazioni che incoroneranno il vincitore della 58esima edizione il giorno successivo. Quest'anno abbiamo dato maggior risalto a quello che è il Palio dei Piccoli dando spazio a loro, obbligando tra virgolette le contrade a avere 10 piccoli, 10 contradaioli tra le loro fila che danno punteggio a quello dei grandi. Loro saranno il traino di quello che è il Palio del futuro. E poi il ritorno del basket? Il ritorno del basket riteniamo che non possiamo escludere nessuno nello spirito stesso di quello che è il Palio con tempi un po' più corti di 15 minuti per permettere. Per quanto riguarda i carretti pazzi è una delle iniziative più amate del nostro Palio con i giochi. Sì, siamo alla quinta edizione della gara dei carretti pazzi, manifestazione che sta sempre avendo più successo di pubblico e di carretti stessi. I contradeioli si stanno impegnando molto per la costruzione e anche i team esterni stanno partecipando con vigore. Le sfide in piazza si sa, il pubblico non mancherà, ma lei ha voluto fare un appello rivolto alla popolazione rispetto a venerdì quando ci sarà l'inaugurazione alle 8 e poi per la cena che è aperta a tutti. La cena è aperta a tutta la cittadinanza, quest'anno avremo anche la presentazione del Sondro Calcio direttamente in piazza. Il Palio del Contrade rappresenta una tradizione che negli anni si è rinnovata, ha saputo restare attuale ai tempi e il fatto che ci siano tantissimi giovani, giovanissimi soprattutto, che partecipano a questa iniziativa è proprio la cartina di Tornasole che segna la salute di questa manifestazione. Il Palio richiama sempre tantissime persone, Contradaioli già pronti a partire e in più anche gli organizzatori che si sono dati un grande affare anche quest'anno. Gli organizzatori sono la vera anima di questa manifestazione. Solamente grazie al loro impegno e ai loro sforzi riescono a coinvolgere tutta quella che è la base dell'iceberg che è fatta dai Contradaioli, dai capi Contrada e dai tantissimi sostenitori che danno una mano.